Abbiamo fatto il nostro servizio secondo la volontà del Signore, all'infuori di quella non c'è altro. Il nome, il regno, la volontà del Signore. Non ci siamo soffermati a raccattare i sassi che qualche volta, al di là della strada, ci venivano lanciati addosso. Abbiamo taciuto, abbiamo perdonato, abbiamo amato. Questo importa, l'ultima grande parola che deve percorrere tutto il mondo, anche attraverso il nostro cuore, le nostre labbra, è questo. Amiamoci gli uni e gli altri, così onoreremo i nostri santi, così faremo camminare la civiltà dell'amore verso le ancora lontane frontiere di quel nuovo ordine che è stato profettato in pace, fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, animato dall'amore e posto innato nella libertà. Grazie, grazie. Ha fatto il nostro servizio secondo la volontà di Dio, non ricogiamo le pietro che ci usciti, abbiamo avuto, abbiamo amato e ho perdonato. amémonos los unos a los otros ese fue el mandato que recibimos el mandato de una nueva civilización que se realice Pachem Interis que haya paz sobre la tierra este es el nuevo mandamiento fundado en la caridad y en la libertad perdónenme aplausos